Gioi di espressione, non si vuole più fisico, un gioco di espressione ma non espressione capponista, non si chiamano di una musica, che è questa parte di teatro, che è proprio qui, come la mezza, tradizioni e non espressione, non si stiamo fatti a me, non si stiamo fatti a me a me a me a a a Grazie a tutti